Siamo buoni con il pianeta e promuoviamo la sostenibilità da molto prima che il mondo ne parlasse. La nostra sede è alimentata al 100% da energia rinnovabile, in gran parte autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico, che oggi ha raggiunto una potenza di 1.600 kW. Nel nostro pollo logistico, inaugurato nel 2012, non bruciamo nemmeno un metro cubo di gas metano. Anzi, il nostro sistema di riscaldamento e raffrescamento sfrutta il calore geotermico e l'acqua di falda. Raccogliamo le acque piovane per destinarle a nuovo uso, perché pensiamo che ogni singola goccia faccia la differenza. Che abbraccia la natura, fa nascere bellezza.